Tutto rosso-nero, sono divertito molto stasera con mio fratello, con mio amico che siamo venuti qui guardare nostra squadra che è giocata una straordinaria partita. Sì, esatto, abbiamo portato fortuna per la squadra stasera, siamo incontrati l'anno scorso a Dubai, anche quest'anno per due giorni, noi tenisti abbiamo tanti tornei, anche Milan gioca ogni 3-4 giorni, comunque non ho tanto tempo e opportunità per guardare la partita, guardare la mia squadra più preferita. Però adesso in questo momento non ho tornei, comunque sono venuto e sono molto felice.